Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con lo medio di TV6. Nel corso di questo lunedì avremo ancora residua instabilità al sud, determinata dalla depressione artica formatasi proprio nel corso di questo fine settimana. Avremo il ritorno del sole al nord e gran parte delle regioni centrali, specie su Toscana, Marche, Umbria e Lazio, nevicate ancora in Appennino, ma prevalentemente su quello Lucano, Campano e Calabrese. In Abruzzo, inizio di settimana con un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un graduale ritorno del sole sul Terramano, l'Aquilano, le aree più interne, ancora un po' di nubi persistenti sul Vastese, anche in Appennino, con isolati fiocchi di neve, oltre i 700 metri di quota, però nulla di particolarmente rilevante. Le temperature stazionarie massime non oltre i 7-8 gradi, minime in ulteriore calo, valori fino a meno 4 all'Aquila, altrove tra meno 1 e 2 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento.